Quest'anno è un 8 marzo un po' più importante degli altri anni perché la pandemia, lo sappiamo bene, ha inciso pesantemente sulla qualità della vita, sul lavoro specie delle donne. Non è bello che si continui soltanto in questa giornata a occuparsi delle donne, dobbiamo superare ogni ipocrisia, impegnarci per una società a partire dalla nostra comunità che sia più orientata ai bisogni delle donne che tante volte mantengono in piedi le famiglie, mantengono in piedi gli equilibri e si occupano anche dei piccoli che sono il nostro futuro. Per questo motivo un gesto simbolico grazie anche all'iniziativa di alcuni consiglieri comunali rispetto alla possibilità per quella giornata di avere un ticket gratuito sui bus di Chima Mobilità.